Stipati in gabbia e maltrattati, costretti a viaggiare su materassini, zuppi d'acqua, sporchi di fango, cuccioli di cane appena nati che arrivavano dall'est Europa per essere rivenduti in Italia. Eccoli tremanti e spaventati mentre vengono salvati dalla polizia che ne ha sequestrato oltre 100 esemplari di varie razze. L'indagine della squadra mobile di Padova, iniziata due anni fa, ha portato alla denuncia di 16 persone, un'organizzazione che gestiva una tratta di cuccioli fatti arrivare nel nostro paese senza il necessario periodo di svezzamento e in pessime condizioni igieniche. Cuccioli che venivano portati in condizioni igienico-sanitarie pessime e soprattutto che avevano anche delle gravi malattie. L'indagine era partita a seguito di denunce di padovani che avevano acquistato attraverso siti internet dei cagnolini deceduti poco dopo. Si è arrivati a scoprire decine di casi tra il Veneto, la Toscana e l'Emilia Romagna. A Verona un cucciolo di barboncino toi è morto perché a pochi giorni aveva mangiato pastoni con ossi di pollo, cibo non adeguato. Alla famiglia che lo aveva acquistato era stato detto che aveva 4 mesi, in realtà era nato da appena 30 giorni. Denunciati autotrasportatori bulgari, allevatori e veterinari italiani compiacenti, disposti a falsificare certificati e pedigree. Un giro di denaro importante dato che i cuccioli venivano comprati per 30-40 euro in Bulgaria e poi rivenduti a prezzi che partivano dai 600 euro. Ecco i consigli che arrivano dagli enti che tutelano gli animali. Difidare degli allevatori che hanno tante razze. Un allevatore ha al massimo 2-3 razze, non di più. Qui si parla di 10-15 razze. Persone che ti procurano il cane dopo un mese, perché non hanno una razza in casa, però dopo un mese ce l'hanno, fatalità, di fidare di questa gente. Poi di fidare anche del prezzo, perché un cane che mediamente viene pagato intorno alle 700 euro, è praticamente impossibile che possa essere venduto a 300 euro. Quindi stare molto attenti a queste cose, questi sono dei campanelli d'allarme.